Ciao, sono Gio. Hai il problema di caricare mobili, lavatrici e materiale quando sali le scale? Quando sei da tuoi clienti devi scaricare i prodotti e portarglieli ai piani alti di un condominio? Le scale sono un problema? Ok, ogni giorno parlo con persone che devono caricare la merce ai piani alti di un condominio e vorrebbero un carrello sali-scale da portarsi dietro per poi consegnare la merce facilmente. Uno di questi è Giorgio, che fa traslochi di professione. Giorgio gestisce una piccola attività di traslochi e installazione elettrodomestici e ogni giorno deve consegnare il materiale ai suoi clienti in condomini con moltissime, moltissime rampe di scale. Giorgio era indeciso se acquistare un carrello sali-scale manuale, ma i carrelli sali-scale manuali, anche se non costano molto, non riducono la fatica che fa l'operatore e ogni volta che ti stanchi devi fermarti a riposarti, perdendo del tempo. Bisogna comunque tirare e spingere ed il peso lo senti sulle braccia, le gambe e la schiena. Ho consigliato a Giorgio di acquistare un carrello sali-scale, ma il modello elettrico, che fa il lavoro al posto suo e delle sue gambe. Inoltre ha acquistato anche una batteria di scorta, così in caso di lavoro intenso non rimane senza la forza propulsiva del suo carrello. Ehi, i vantaggi sono notevoli. Il carrello ha la sua batteria e si ricarica facilmente. Lo puoi usare anche in piano. Ci pensa lui a spingere il carico. Tu ti lasci dolcemente trascinare e sei comodo. Non devi spezzarti la schiena e non ti stanchi ancora prima di iniziare a lavorare. Se ti stai domandando quanto costa o se pensi che sia troppo caro per te, riflettiamo un momento insieme. Pensa, qui non stiamo parlando solo di un carrello, ma di un articolo innovativo che fa il lavoro al posto tuo. Tu devi solo pensare a mantenere l'equilibrio. Il carrello è più veloce e più forte di te e non si stanca mai. Avrai un vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri traslocatori che movimentano la merce a mano. Ti serviranno meno persone e saranno tutti meno stanchi e più efficienti. Si tratta di un prodotto made in Italy e i ricambi sono sempre disponibili e godi della garanzia europea. I pezzi di ricambio sono sempre disponibili e non devi perderti nei meandri del web nella speranza di trovarli. Ok, e se ora ti stai domandando perché acquistare da noi di Tutto Logistica? Ecco, perché le maggiori aziende nazionali e internazionali si fidano di noi ed inoltre ti diamo 7 giorni di prova con la garanzia soddisfatti o rimborsati. Per questo articolo non focalizzarti su differenze di pochi euro è un bene agevolabile non si tratta di una spesa ma di un bellissimo investimento per la tua azienda. Risolverai certamente i tuoi problemi di carico e di scarico della merce avrai reso efficiente il tuo lavoro avrai incrementato la produttività. Questo prodotto viene fornito anche con batterie ricaricabili e caricabatterie integrato basta sprechi e riduci l'impatto ambientale Ehi, non esitare oltre clicca sul link sottostante ed acquista il tuo carrello saliscale paga come vuoi ed in totale sicurezza Il video è terminato Metti like, condividi, iscriviti a tutti i nostri canali Ricorda che io sono Gio e questa è tuttologistica.it Carrelli ed attrezzature per il magazzino online Grazie a tutti